Solo a risolvere purtroppo queste gravi eredità che abbiamo dovuto andare avanti. Il sindaco di Scafati Cristoforo Salvati ha presentato la sua nuova giunta ufficializzando il nuovo esecutivo di Palazzo Maier che dovrà secondo aspettative restare in carica fino al 2024. Riconfermati gli assessori uscenti, Serena Porpora, Annunziata Di Lallo, Alfonso Di Massa, Raffaele Sicignano e Danilo Con deleghe pressoché invariate se non il passaggio a quest'ultima degli assessorati a cultura e biblioteca comunale. L'unica new entry rappresentata dal consigliere comunale Camillo Auricchio che sarà assessore all'innovazione tecnologica, parcheggi, patrimonio e manutenzioni sostituendo Arcangelo Sicignano che lascia definitivamente la giunta.